E' stata denominata Evergreen, l'operazione condotta dagli uomini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Bologna, che nella notte di venerdì scorso hanno tratto in arresto otto pregiudicati pugliesi, uno dei quali di Cerignola, sorpresi in fragranza di reato all'interno di un'azienda della provincia di Terramo, mentre caricavano su un autocarro generi alimentari per un importo di circa 170.000 euro appena prelevati. Gli arrestati facevano parte di una banda composta da almeno 20 elementi, 10 dei quali già accusati per furti compiuti tra ottobre e dicembre del 2017 a un distributore di Castel San Pietro Terme e a un autotrasportatore in provincia di Piacenza. Nell'occasione i marviventi avevano sportato un carico di pneumatici per veicoli industriali per un valore complessivo di oltre 60.000 euro.